La Polizia Stradale è impegnata sul territorio nazionale per attività di prevenzione ed educazione alla guida sicura. Dai primi giorni di ottobre per i prossimi fine settimana, la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, la Polizia Stradale presiederà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. Sul punto, i dati ISAT riferiti al 2022 evidenziano un andamento abbastanza piatto. In sostanza, non si rivela una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti. Anche l'andamento per l'anno 2023 si conferma senza particolari variazioni. L'Italia è aderita al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento del 2050. In questa direzione sono orientati gli sforzi operativi della Polizia Stradale, che guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a queste ultime, un focus ha evidenziato che altra causa di incidentalità è la distrazione. Anche su questo fronte, l'impegno della Polizia Stradale è alto e costante. Non a caso, Proprie Giovani sarà dedicata alla giornata conclusiva, in ciascuna provincia italiana, di questa campagna preventiva.